Musica Sapri, autista di bus, perde il controllo del mezzo e 5 vetture coinvolte a una persona ferita. Truffe ai danni dei correntissi, condanna alla reclusione per un'operatrice delle poste, soddisfatto l'avvocato Pancella. Furto in abitazione, intenso lavoro per le forze dell'ordine a Sala Consilina, furto e tentato furto in località Fonti, nel Cilento, operai scambiati per ladri. Sala Consilina al Cicerone, i tablon bevan delle studentesse per l'open day di storia dell'arte. Domani, Salernitana-Empoli, Almeri-Rosi, prove di salvezza. Eccoci ben trovati al nostro telegiornale. Sono 5 le auto danneggiate da un busto, il cui autista questa mattina, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. L'incitente si è verificato nella centralissima via Kennedy a Sapri, a pochi passi dalle scuole. I dettagli. Grande spavento questa mattina a Sapri, dove un bus è andato ad impattare violentemente contro delle auto in sosta. Un terribile incidente che solo per fortuna non ha avuto conseguenze ben più gravi, visti anche i numerosi veicoli coinvolti e la presenza a bordo del bus di studenti. L'incidente si è verificato nella centralissima via Kennedy di Sapri poco prima delle ore 8, quando il mezzo stava accompagnando gli studenti alla fermata al fine di consentire loro di raggiungere la scuola. Non sono chiare le cause della perdita di controllo del bus. Si ipotizza che l'autista abbia avvertito un malore mentre era alla guida. Fortunatamente però il mezzo stava viaggiando ad una velocità moderata che non si è alterata in modo particolare nel momento della perdita di controllo. Il bus, sbandando, è andato ad impattare contro alcune auto in sosta lungo l'arteria stradale, provocando anche numerosi danni ai veicoli. Ad avere la peggio una donna che era a bordo di una delle auto che è stata colpita dal bus fuori controllo. Fortunatamente però pare che le ferite riportate nello scontro non siano gravi, anche se in via precauzionale è stata comunque trasportata presso il vicino pronto soccorso per verificare le sue condizioni. Sul posto sono immediatamente giunti anche i carabinieri della compagnia di Sapri per effettuare tutti i rilievi del caso e cercare di ricostruire l'accaduto, oltre che per capire anche quale sia stata l'effettiva ragione della perdita di controllo dell'automezzo. Cinque le auto coinvolte nell'impatto violento e danneggiate dal bus. Un incidente tesibile ma che per fortuna non ha avuto conseguenze ben più gravi vista anche l'ora in cui si è verificato e la presenza nei pressi del luogo dell'incidente anche di scuole. Una dipendente di un ufficio postale è stata condannata alla reclusione per aver indebitamente prelevato una somma di denaro dal conto corrente di un cliente. Una sentenza di grande valore anche perché la vittima ha preferito ricorrere alla denuncia penale verso la responsabile e non limitarsi al solo recupero della somma. Un risultato di cui manifesta grande soddisfazione il suo avvocato Vito Panzella di Polla. 3.500 euro prelevati indebitamente dal conto corrente di un cliente di un ufficio postale attraverso l'indebito utilizzo delle credenziali di cui la dipendente dell'ufficio in concorso con altre persone non ancora identificate riusciva ad impossessarsene. Una truffa che è stata scoperta dalla vittima procedendo alla denuncia della responsabile della sottrazione indebita del denaro che grazie al lavoro dell'avvocato di Polla Vito Panzella è stata condannata alla reclusione con pena sospesa e al risarcimento dei danni. Una vicenda di grande rilevanza anche perché la vittima del raggiro, anziché limitarsi alla causa civile avvalendosi del giudizio dell'arbitro bancario finanziario, ha voluto denunciare penalmente la donna ritenuta responsabile dell'indebito prelevamento del denaro dal conto corrente postale del cliente dell'avvocato Panzella. Denaro che attraverso bonifico era stato poi accreditato su una posta Pay Evolution. Accertato quanto denunciato, il giudice Elena Di Tommaso ha ritenuto colpevole l'imputata che è stata condannata a quattro mesi di reclusione e pena sospesa e al pagamento di una multa di 200 euro, oltre al risarcimento del danno. Una sentenza che l'avvocato Vito Panzella commenta con favore mettendo in evidenza la scelta del suo cliente di optare per la condanna del responsabile e non soltanto per la restituzione della somma indebitamente prelevata. Siamo soddisfatti dalla pronuncia del Tribunale di Napoli perché stabilisce un principio fondamentale che chi truffa le persone viene condannato. E questo è fondamentale perché purtroppo sono numerose le persone vittime di truffe informatiche, dove sono indotte a credere di trovarsi dinanzi alle poste, agli intermediari, ma in realtà sono degli esperti truffatori che riescono con un semplice messaggio contenente un link a defrodare tutti i risparmi che gli italiani, sono un popolo di risparmiatori, conservano nei loro conti correnti. E quindi bisogna prestare attenzione, stare attenti quando ricevete messaggi del genere non cliccate, non date nessun codice e soprattutto nel caso in cui siete stati vittime di una truffa, condattate subito il vostro avvocato, condattate le forze dell'ordine, va dato merito anche in questo caso alle forze dell'ordine che hanno fatto un'accurata indagine. E quindi non avete paura di denunciare perché come ha saputo questa sentenza, chi commette questo tipo di reati viene condannato. Due i protocolli antirapina che sono stati sottoscritti tra il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, e le associazioni di categoria di tabaccai e farmacie mira a creare un rapporto più diretto tra forze di polizie ed esercenti commerciali, nello specifico farmacie e rivendite di generi di monopolio che gestiscono un buon afflusso di contanti, puntando così a rafforzare le misure di vigilanza e osservazione. Un protocollo che in provincia di Salerno non aveva ancora trovato attuazione, che mira a creare un rapporto più diretto tra forze di polizia e gli esercizi commerciali, nello specifico farmacie e rivendite di generi di monopolio, che gestiscono un buon afflusso di contanti, puntando a rafforzare le misure di vigilanza ed osservazione. Due i protocolli antirapina che sono stati sottoscritti questa mattina presso il Salone Azzurro del Palazzo di Governo a Salerno al termine della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tra il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, e le associazioni di tabaccai e farmacie, Federazione Italiana Tabaccai, Federfarma e Assofarma. L'obiettivo è quello di restituire maggiore sicurezza attraverso la realizzazione di sistemi di videoallarme antirapina collegati con le centrali operative delle forze di polizia per la trasmissione in tempo reale e la registrazione delle immagini. Il protocollo, siglato stamani alla presenza anche del sindaco del Comune di Salerno Vincenzo Napoli, del questore Giancarlo Conticchio, dei comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri Filippo Melchiorre e della Guardia di Finanza Oriol De Luca, scaturisce da recenti episodi che si sono verificati ai danni di tabaccherie in alcune farmacie del territorio. Mettere in rete le telecamere di sicurezza con le forze di polizia accompagna la misura anche con le vetrofanie che indicano che l'esercizio commerciale fa parte di una rete antirapina avrà un importante effetto deterrente a tutela di tutti. Questo documento che firmiamo oggi, questo protocollo, servirà a creare una rete di protezione in cui ogni esercente, ogni farmacia, ma ogni esercente che aderirà al protocollo contribuirà a migliorare ulteriormente la protezione. Le telecamere esterne fuori alle nostre attività saranno tutte collegate in rete e in tempo reale forniranno le immagini alle forze di polizia. Questo servirà non soltanto nei casi in cui le nostre attività saranno oggetto di furto o di rapina ma anche in qualsiasi altro caso in cui succederà un evento delittuoso nelle zone. E quindi noi stessi, gli esercenti, le farmacie, contribuiranno a creare una rete di protezione per migliorare la vivibilità del nostro territorio e delle nostre comunità. Grazie alle forze dell'ordine ovviamente per aver realizzato tutto ciò. Specialmente qua a Salerno negli ultimi due giorni abbiamo subito due furti. Ormai è già da tempo che stiamo subendo questa situazione. Il protocollo è una base importante per i progetti futuri per la categoria. Noi già insieme con le farmacie abbiamo già le telecamere esterne e con questo protocollo cerchiamo di fare in modo che le telecamere esterne possano individuare già l'atto prima che avvenga in modo da far scattare le forze dell'ordine tempestivamente. In questo momento avete solo una vigilanza interna quindi non si era mai pensato di collegare ai centralini delle forze dell'ordine il sistema di videosorveglianza? Alcuni colleghi sì, alcuni colleghi già ce l'hanno. Anch'io c'ho una tabaccheria, sono collegato con le forze dell'ordine con un combinatore che nel momento che scatta l'allarme arriva l'input in caserma e si attivano le forze dell'ordine. Questo protocollo serve per fare in modo che tutta la categoria possa avere questo servizio. Continua senza sosta l'attività di controllo del territorio da parte della Guardia di Finanza per contrastare il commercio di articoli non sicuri e potenzialmente pericolosi. Le fiamme gialle della compagnia di Scafati hanno sequestrato in un esercizio commerciale di San Valentino Torio circa 19.000 articoli privi delle necessarie certificazioni delle indicazioni e delle avvertenze per l'uso in lingua italiana previste dalla normativa in materia di tutela del consumatore. I prodotti sequestrati, merce per la casa, anche maschere, gadget, accessori bari pronti per essere commercializzati per il carnevale sono stati ritirati dal mercato e il titolare dell'esercizio di origine asiatica è stato segnalato alla Camera di Commercio per l'irrogazione delle previste sanzioni amministrative. Andiamo avanti. I continui furti ad opera di malviventi continuano ad interessare tutta la provincia di Salerno. La notte scorsa a Trinità di Sala Consilina furti in abitazione con i ladri messi in fuga in un caso. Intanto nel Cilento alcuni operai sono stati scambiati per ladri. Vediamo. Non si arresta l'ondata di furti e rapine che vanno a toccare non solo le grandi città ma ancor più i piccoli centri soprattutto nelle aree come il Vallo di Diano che per vastità ed estensione territoriale diventa complicato da controllare in ogni parte. Al lavoro la compagnia Carabinieri di Sala Consilina guidata dal capitano Roberto Bertini che in queste settimane è impegnata nel cercare di individuare i responsabili di numerosi casi di furti che si stanno ripetendo nella vastissima area di competenza della compagnia salese. Alle recenti vicende verificatesi a Sala Consilina dove è stata rubata una vettura nei giorni scorsi a Padula con i furti perpetrati nelle abitazioni si sono aggiunti ulteriori episodi che hanno interessato due abitazioni di località a fonti di Trinità di Sala Consilina al confine con il comune di Padula. Nella notte infatti, secondo quanto si apprende, pare che i gnoti si siano introdotti in abitazioni poste alla periferia del centro più popoloso del Vallo di Diano. In una delle abitazioni sono riusciti a prelevare oggetti di valore provocando dunque un danno economico da quantificare. Nella stessa serata inoltre i ladri si sono introdotti anche in un'altra abitazione posta sempre in località fonti ma in questo caso, secondo quanto emerge, essendo presenti all'interno i proprietari, i malviventi sono stati messi in fuga. Immediatamente è stato lanciato l'allarme con gli uomini del capitano Bertini che hanno dato il via alle indagini per cercare di risalire agli autori dei reati. Si tratta dell'ennesimo caso di furti che sul territorio valdianese non si sono mai arrestati ed hanno visto impegnati i carabinieri salesi in numerosi interventi anche al fine di individuare i responsabili. I furti in abitazione in ogni caso non riguardano solo il Vallo di Diano ma sono sempre più diffusi su tutto il territorio nazionale ed anche provinciale provocando anche allarmismi talune volte ingiustificati come nel caso dei due operai che rientrando nel loro B&B a bordo del furgone utilizzato per il lavoro sono stati scambiati per ladri con i cittadini che hanno immediatamente ha allertato le forze dell'ordine fortunatamente sono riusciti a chiarire la loro posizione. Dopo l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze di Sant'Arsenio domani venerdì 9 febbraio alle ore 11.30 nell'Aula Consiliare del Comune si terrà la cerimonia ufficiale di insediamento. Lo scorso 20 dicembre è stato eletto sindaco Giovanni Cardiello dei 146 ragazzi e ragazze aventi diritto al voto si sono recati alle urne 129 ragazzi. Sono stati coinvolti gli alunni e le alunne della quinta classe della scuola primaria la prima, la seconda e terza classi della scuola secondaria di primo grado di Sant'Arsenio. Domani si terrà l'insediamento ufficiale del Consiglio Comunale dei giovani e delle giovani del paese alla presenza del corpo insegnanti della dirigente scolastica Rosangela Lardo del sindaco Donato Pica e dell'intero Consiglio Comunale. Cambiamo argomento è arrivata la firma del Ministero dell'Ambiente Pichetto Fratin sul decreto di nomina dei componenti del Consiglio Direttivo del Parco confermate le anticipazioni della vigilia saranno solo tre le donne a sedere in Consiglio. Si attende solo la comunicazione ufficiale che dovrebbe arrivare a breve sul tavolo del Direttore del Parco Romano Gregorio per completare la composizione del Consiglio Direttivo dell'ente preseduto da Giuseppe Coccorullo. A distanza di alcuni mesi dalle nomine dopo una serie di polemiche legate in particolare alla questione delle quote rosa è dunque ormai definita la composizione del Consiglio Direttivo della Comunità del Parco dato che, secondo quanto si apprende, il Ministro dell'Ambiente Gilberto Picchetto Fratin ha posto la sua firma sul decreto di nomina in riferimento alle scelte ministeriali. Confermati i nomi della vigilia ossia Costabile Spinelli ex sindaco di Costellabate per Forza Italia Elena Anna Gerardo sindaco di Alfano nome scelto dalla Lega e per il partito di Fratelli d'Italia ci sarà Luisa Maiuri. Una donna anche per le nomine da parte delle associazioni che hanno scelto la Presidente di Lega Ambiente Campania Maria Teresa ha imparato. A distanza di tre mesi dall'Assemblea dei Sindaci in cui erano stati definiti alcuni dei nomi che fanno parte del Consiglio della Comunità era tutto rimasto in stand-by per gli ultimi nomi a completamento del gruppo. Tre mesi in cui si sono registrate accese polemiche per il mancato rispetto delle quote rosa che doveva essere al 50% della composizione del Consiglio Direttivo della Comunità del Parco. Non è però questo un caso anomalo. Pare infatti che già in altri casi la quota rosa non è stata rispettata. Ciò però non ha impedito che il Consiglio Direttivo avviasse le sue attività regolarmente. Solo tre le donne dunque che entrano a far parte del CDA della Comunità del Parco e sono tutti nomi arrivati dal Governo. I sindaci invece nella scelta hanno puntato esclusivamente su nomi di uomini scegliendo Carmelo Stanziola che si ipotizza possa ricoprire il ruolo di Vicepresidente Domenico D'Amato sindaco di Pettina Rosario Cairone sindaco di Trentinara Francesco Bellomo per il partito di Fratelli d'Italia. Il 25 marzo prossimo il socialismo salernitano si ritroverà a Sala Consilina presso il Cinema Adriano per la visione del film Amamet di Gianni Amelio ispirato alle vicende del Partito Socialista racconta l'epilogo della vicenda umana e politica di Bettino Craxi interpretato magistralmente da Pierfrancesco Favino. Il film ha ottenuto quattro candidature e vinto un premio ai nastri d'argento quattordici candidature e vinto un premio ai Davidi Donatello dopo la due giorni di Roma promossa dal PSI per avviare la campagna elettorale per le europee verso la costruzione di un'alternativa politica al governo la della demagogia e del revisionismo rovesciato sarà un'occasione per rilanciare le cinque campagne socialiste lavoro in misura under 30 scuola e sanità pubblica ambiente ed energia ritorno alle preferenze l'evento si terrà a partire dalle ore 18 e 30 ed è organizzato dal gruppo consigliare PSI della provincia di Salerno e dal centro zona PSI Ballo Didiano noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità rieccoci di nuovo in studio ben ritrovati al liceo classico Cicerone di Sala Consilina le studentesse hanno messo in scena dei tablon vivant in occasione dell'open day di Storia dell'arte Una bella iniziativa è stata realizzata dagli alunni del liceo classico Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina in occasione dell'open day di Storia dell'arte tenutosi la scorsa domenica alcune studentesse liceali hanno infatti interpretato dei tablon vivant ovvero dei quadri viventi ne dà notizie all'istituto precisando che con questa rappresentazione si è voluto dar vita alle opere degli artisti che hanno segnato la storia dell'arte ma al contempo si è voluto rendere omaggio all'arte come tesoro universale ed ecco che sulla pagina facebook ufficiale della scuola sono state pubblicate le foto dei tablon vivant realizzati dalle ragazze del liceo con la spiegazione delle varie interpretazioni realizzate con il supporto dei docenti Branda e Lunelli la studentessa Denisa Turica della quarta B ha rappresentato la notte stellata di Van Gogh che ha mostrato dipinta sul suo volto e il ritratto di Paolina Clelia Silvia Bondi di Corcos la studentessa Annalisa Sanseverino sempre della classe quarta B si è esibita in La Belle Ferroniere di Leonardo Lucia Tardugno della Quinta A ha realizzato la sua rappresentazione vivente della Lady Reading by a Window di Kennington Aurora Paternoster della terza A ha invece messo in scena la dama col licorno di Raffello la studentessa la studentessa Jennifer Cestari sempre della terza A ha rappresentato la celeberrima Mona Lisa di Leonardo altre belle rappresentazioni di quadri viventi sono state realizzate dalla studentessa Mari Calopardo della quinta B in Annunciata di Antonello da Messina da Francesca Fiorini della classe quinta A in Lady Agno of Locno di Singer Sargent Federica Morra ancora di quinta A si è esibita in Joan e Biurten di Modigliani Raffella Castelluccio della quinta B in Dama con Lermellino di Leonardo e Luciana Pisano della terza A in Autoritratto di Frida Calo una iniziativa originale dunque con cui gli studenti del liceo Cicerone hanno voluto accogliere i partecipanti all'open day di Storia dell'Arte rendendo omaggio all'arte come tesoro universale il centro analisi biochimica rappresenta un'eccellenza nel settore della salute nel Vallo di Diano e in provincia di Salerno tempi rapidi nell'erogazione delle analisi apparecchiature all'avanguardia e personale altamente specializzato esami processati in loco giornate di prevenzione e cecappa tariffe agevolate un punto di riferimento sul territorio con le sue sedi di Padula Atena Lucana e Battipaglia tempi rapidi nell'elaborazione delle analisi apparecchiature all'avanguardia e personale altamente specializzato esami processati in loco giornate di prevenzione e cecappa tariffe agevolate è un punto di riferimento sul territorio con le sue sedi di Padula Atena Lucana e Battipaglia il centro analisi biochimica rappresenta un'eccellenza nel settore della salute il laboratorio si distingue per la cura e l'attenzione con cui segue il paziente in tutte le fasi dalla raccolta dei campioni alla consegna dei referti un impegno che si traduce in tempi rapidi nell'elaborazione delle analisi consentendo così ai medici di impostare tempestivamente terapie efficaci e ai pazienti di ridurre tempi e costi le apparecchiature all'avanguardia sono sottoposte a continui controlli e aggiornamenti per garantire precisione e accuratezza nei risultati e tutti gli esami vengono processati in loco seguendo standard elevati di qualità e sicurezza una peculiarità che rende il centro un punto di riferimento imprescindibile per le analisi biochimiche nella zona essendo l'unico laboratorio che offre questo servizio direttamente sul territorio accreditato con il sistema sanitario nazionale il centro analisi biochimica in grado di accettare le ricette per gli esami prescritti dai medici offrendo così la possibilità a tutta l'utenza di fruire di un servizio di eccellenza senza oneri aggiuntivi è un punto di riferimento per le giornate di prevenzione CK a tariffe agevolate promossi dal pool di biologi presenti all'interno della struttura il personale altamente specializzato e motivato partecipa regolarmente a corsi di aggiornamento per mantenere elevate le competenze professionali e garantire un'assistenza all'avanguardia inoltre ha esteso la propria presenza sul territorio grazie alle sedi di Padula Atena Lucana e Battipaglia confermando così il suo impegno nel fornire un servizio sanitario di alto livello su tutto il territorio il centro analisi biochimica si conferma come un punto di riferimento insostituibile per la salute e il benessere dei cittadini del Vallo di Viano e della provincia di Salerno e ora il calcio al Meri Rosi Filippo Inzaghi ha abbinato teoria e pratica seduta in video in mattinata e poi lavoro sul campo per preparare al meglio la gara con l'Empoli la salernitana dovrà provare a conquistare quei tre punti con cui si riaprirebbero i giochi per la salvezza seduta a video in mattinata e poi lavoro sul campo al Meri Rosi Filippo Inzaghi ha abbinato teoria e pratica per preparare al meglio la gara di dopodomani con l'Empoli di Nicola la salernitana dovrà provare a conquistare quei tre punti con cui riaprirebbe davvero i giochi per la salvezza la missione dei Granata è tornare al gole dal successo riuscendo al tempo stesso a limitare i pericoli per la porta di Ochoa in questo senso sarà fondamentale trovare i giusti equilibri ma anche recuperare qualche pedina nel reparto arretrato dopo il K.O. di Pasalidis Inzaghi confida nel recupero di Pirola e tiene in caldo Pellegrino il reparto sarà imperniato sulla esperienza ed il carisma di Boateng che al momento è certamente più a suo agio in una difesa a tre Pierozzi sarà confermato alla sua destra mentre sulla parte mancina troverà spazio uno tra Pellegrino e Pirola in mediana si potrebbe ricominciare da Maggiore Basic con culibali reduci dalle fatiche della Coppa d'Africa che potrebbe partire dalla panchina in attacco ci sarà Diada al primo minuto domani pomeriggio la Sretana svolgerà la rifinitura alla Rechi porte aperte ai tifosi in Curva Sud ed appello della Curva Sud siberiano a gremire la Rechi per dare calore e sostegno alla squadra di Inzaghi il club chiama a raccolta la gente a cui chiede di dare calore e sostegno alla squadra che anche a Torino è stata seguita tra tanti tifosi e che a sua volta sa che deve dare un segnale l'obiettivo comune è la vittoria l'Empoli potrà giocare per due risultati data la sua la ritrovata convinzione che deriva dai cinque punti nelle ultime tre gare il cambio tecnico ha nell'immediato prodotto la scossa quella che la Sretana ha solo accarezzato finora che non può più essere rimandata alla Rechi domani e venerdì con i suoi tifosi accanto è l'occasione per dare il via alle prove di salvezza per Inzaghi era questo il nostro ultimo servizio grazie per essere stati con noi arrivederci grazie a tutti